Sono le ore 8 di venerdì 21 dicembre. Sono le ore 8 di venerdì 21 dicembre. Sono le ore 8 di venerdì 21 dicembre. La 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 Per scordarti di me, tu m'hai lasciata sola in casa, tu m'hai lasciata perché, fa tanto freddo e sono sola, e detto lacrima per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.